seconda tappa del festival della teologia incontri a teggiano centro della diocesi di teggiano policastro l'evento ha visto la partecipazione di don tonino palmese che ha accompagnato i presenti in una lettura profondamente esperienziale del tema della giustizia riparativa il docente della sezione san tommaso della pontificia facoltà teologica dell'italia meridionale di napoli nella sua lezione ha offerto spunti di vita e richiami biblici per provare accogliere nelle vicende umane i segni del vangelo vissuto nel prosieguo dopo l'esibizione di due giovani musicisti dell'azione cattolica carmen tancredi e pierpaolo arenare il magistrato catia cardillo sostituto procuratore a salerno ha portato la sua testimonianza di operatrice di giustizia offrendo ai presenti anche una riflessione su un passo del magistero di benedetto sedicesimo dedicato alla giustizia e all'educazione dei giovani presenti tra il pubblico numerosi avvocati del foro di lago negro in quanto l'evento era riconosciuto come evento formativo professionale nonché l'ex parlamentare tino jannuzzi unitamente a rappresentanti del mondo associativo operanti sul territorio il festival promosso dall'azione cattolica e con il coordinamento scientifico dell'istituto superiore di scienze religiose san matteo di salerno vedrà questa sera in piazza della repubblica ad agropoli l'alexio di sua eccellenza monsignor pasquale cascio sul tema giustizia e pace si baceranno nonché la partecipazione del cantante dino zero e la testimonianza dell'avvocato maria felicità rocco